Gara particolarmente sentita da tutte e due le tifoserie, questa è una di quelle partite che tutti vorrebbero giocare. Per conoscere l'esito finale non vi resta che mettervi comodi e continuare a seguirci. Si gioca in un sanzino gremito, speriamo che il match si rivedi all'altezza. Con me come sempre c'è Lele Adani, rimanete con noi ovviamente per seguire le emozioni del match. Saria team pronta a regalarci altri 90 minuti di grandi emozioni, non staccatevi dal divano. In campo le formazioni di Milan e Genoa. Ciao Pierre, sai che io sono sempre disponibile quando c'è da assistere a una partita di calcio e voi amici a casa, ascoltate il mio consiglio, rimanete incollati al video, non ve ne pentirete. Insomma l'impressione, le scelte del tecnico Rozzonero. Scortiello in porta, difesa che vede l'impiego di Fernandez, con Florenzi come esterni bassi. E Giroud, unico riferimento davanti. Il tecnico del Genoa ha optato per questo unici di partenza, lo vediamo. Ballone arretrato. Occasione per portarsi avanti. Prima gol del match, hanno cominciato alla grande. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. Da quella distanza non poteva proprio sbagliare, era un pallone da buttare in porta, un invito a nozze impossibile da rifiutare. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Good motion. Recuperano bene il pallone. Adli. Tutto per Pulisic. Palla recuperata nei 16 metri, grande azione difensiva. Aaron Martin. Attenzione, passa il difensore. Situazione che resta di pericolo. Che gesto tecnico pazzesco del portiere. E più di qualcuno qua, gridava già il gol. Passaggio intercettabile. Florenzi. Occhio allo spunto in velocità. Pulisic. A campo a disposizione. Occasione per Giroud. E c'è il gol. Ancora lui. Doppietta personale. E' il replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. Ha ricevuto palla a pochi metri dalla porta. A quel punto è stato un gioco da ragazzi metterla in spalle del portiere. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Continua ad avanzare. A pochi metterla su Florenzi. A pochi metterla su Florenzi. cerca la porta tira il respinto non ha creato problemi al portiere palla che è uscita di parecchio la potenza c'era è la mira Baden può girarla la dai indietro prova a piazzare si oppone con sicurezza qui il portiere occhio al corner c'è un buon anticipo torna in possesso del pallone con questo intervento c'è spazio per la ripartenza possesso è regalato prova a metterla sulla corsa del compagno la tiene in mezzo al pressing intervento puntuale del portiere che si tuffa e revita il peggio palla messa in mezzo la spazza via è punizione posizione invitante la spazza via la spazza via Occhio al tiro Colpisce il palo Il palone è ancora in gioco Nulla di fatto dunque Cucu e Ze Giocherà ancora per due minuti Adni Florenzi Ci sono metri per andare Sceglie la corsia interna A Sanzino arriva il fischio che chiude la prima parte del match Con le squadre che vanno a riposarsi Oggi è certamente tra i protagonisti Molte azioni passano dai suoi piedi Sta dominando in mezzo al campo Oggi non è contenibile Dai suoi piedi sono passate tutte le azioni pericolose Ed è riuscito anche a fornire un assist Squadra di nuovo in campo per il secondo tempo Yasir Adli Yasir Adli Nuovamente su Pulisic Pallone in gioco attenzione Palla che finisce docile per le braccia del portiere Che qualche sette fa è stato davvero protagonista Se non fosse stato per lui Avrebbero preso gol Non so nemmeno io come abbia fatto ad arrivarci Palla che torna in possesso Mira che viene avanti Che prova a rendersi pericoloso Palla vagante adesso Con questa palla E punta la porta Buono il contrasto Pulisic Non concede nulla all'attaccante Aaron Martini Occhio all'accelerazione Ecco Badel Prova ad andare E il portiere dice di no Ecco Pulisic Ciukwezze Pallone profondo per Florenzi Ciro È tutto solo Pulisic Conclusione deviata Decisivo Questo tocco Ottima la parata È la vera difficoltà Non sembra in grado di rimanere in campo Forse sarebbe opportuno il cambio Ferma tutto il difensore Bravissimo qui Teo Hernandez Procede senza disturbo Admi Capisce tutto e ferma l'azione Badel Dei fortuni a cui sembra più seri del previsto Ha difficoltà a correre E sarà necessario Penso Il cambio Ciukwezze Olivier Giroud Olivier Giroud Rafael Leal Può essere il pallone giusto Grande riflesso del portiere Su questa Conclusione da avvicinata Ha evitato un gol fatto Puro istinto E salva risultato Fa da scudo al pallone con il fisico Grande intervento Quasi come un gol Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara Ecco Tomori Cercato Rafael Leal Cerca la verticalizzazione Finse all'arbitro Gara che finisce con il successo della squadra di casa Tre punti importanti Hanno disputato una buonissima gara Punteggio Che riflette la differenza di valore in campo Si è vista una squadra ampiamente superiore Per qualità e quantità Prestazione di altissimo livello La sua quest'oggi C'è la sua firma su questa vittoria Piero Per lui una prestazione davvero notevole Che va al di là della doppietta messa a segno I difensori se lo sogneranno anche stanotte È stato un vero incubo per loro Che va al di là della scuola Grazie a tutti.